Stati d'animo completamente diversi nelle tre formazioni campane di Lega Pro, ma l'umore in casa Juve Stabia, serenità in quelle di Casertane e Paganese. Le Vespe, dopo l'eliminazione negli ottavi di finale di play-off, devono prendersi il tempo necessario per mandare giù il boccone amaro. Giallo-blu eliminati con tutti i vantaggi del caso. Avevano una migliore griglia rispetto alla Reggiana, il vantaggio della seconda in casa e quindi del fattore campo. La formazione di Carboni paga gli errori commessi in gara 1, il 2-1 per gli Emiliani che è stato difeso fino alla fine. Juve Stabia che ci ha messo volontà, ma non è bastata e ora si deve ripartire cercando di ricostruire il morale per riprovarci ancora. Serenità per la Casertana che si è trovata di fronte, forse, la favorita numero uno alla promozione in Serie B, l'Alessandria. Aver pareggiato la sfida d'andata è la dimostrazione di essere una squadra viva. L'aver messo paura ai piemontesi nel ritorno ne la conferma. La Casertana ci ha approvato, francamente è stata fermata da una vera e propria corazzata. C'è poco per cui rimproverarsi. Poco da rimproverarsi anche per la Paganese. Aver raggiunto i playoff è già un grande risultato. Adesso serve ricaricare le batterie per riprendere la marcia nella prossima stagione cercando di migliorarsi ancora di più. Il primo passo però sarà trovare un nuovo tecnico dopo che Grassadonia ha salutato la truppa azzurro stellata.